Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Tee ed oggi siamo qui per analizzare un nuovo elemento SCP. Oggi analizzeremo l'elemento SCP-024 anche chiamato Game Show della Morte. Elemento SCP-024. Classe dell'oggetto. Euclid. Procedure speciali di contenimento. A causa della sua natura SCP-024 non può essere spostato in un luogo sicuro, quindi le procedure di sicurezza devono essere attuate in luogo. Per nascondere la sua posizione SCP-024 ha almeno 5 repliche identiche che lo circondano per tutto il tempo. Deve essere mantenuto uno stretto perimetro di sicurezza attorno al campo in ogni momento, con delle squadre di sicurezza indipendenti di guardia su SCP-024 e le sue repliche. Nessuna squadra di sicurezza, a parte i capi squadra, è informata circa la reale locazione di SCP-024. SCP-024 deve essere difeso con porte blindate attenuta magnetica e pareti corazzate rinforzate per impedire l'accesso non autorizzato. In nessun caso un addetto qualunque del personale o della sicurezza può entrare in SCP-024. Solo al personale di classe D è permesso l'ingresso e strettamente per scopi di ricerca. Tutti i ricercatori devono osservare e sperimentare con SCP-024 da un laboratorio d'osservazione a distanza. Qualsiasi membro del personale che tenti di lasciare il laboratorio d'osservazione o di entrare in SCP-024 senza previa approvazione da un ricercatore di livello 4 deve essere immediatamente arrestato e ne autorizzata la terminazione. In caso di violazione di contenimento o della compromissione della vera natura di SCP-024, l'intero campo deve essere distrutto mediante cariche di demolizione specializzate e piantate in tutto il perimetro. Discrizione SCP-024 è un palcoscenico abbandonato che una volta era di proprietà di... Ad ogni modo SCP-024 è stato abbandonato sin dal 1900... E non si sa se le sue speciali proprietà si siano manifestate prima o dopo il suo abbandono. SCP-024 è situato nel cuore di... Ed è stato inizialmente scoperto quando un gruppo di giovani adolescenti ha fatto irruzione nel complesso abbandonato. La testimonianza del solo vincitore che si è consegnato alla polizia è stata sufficiente da disporre delle attività di mobilitazione della fondazione per contenere SCP-024. Entrando in SCP-024, i visitatori sono immediatamente accolti da un annunciatore anonimo che comunica tramite l'interfono ed è in grado di ascoltare e comprendere le voci delle persone all'interno di SCP-024. L'annunciatore informa i concorrenti che sono in procinto di partecipare ad un gioco a premi in cui i vincitori otterranno ricompense favolose ma avverte inoltre che il gioco è estremamente pericoloso e che i perdenti non lasceranno mai SCP-024. E' a questo punto che il presentatore presenta la scelta di restare o lasciare SCP-024. I concorrenti che accettano continuano a partecipare al gioco mentre coloro che rifiutano vengono immediatamente espulsi da SCP-024. I concorrenti che vincono la partita o declinano la partecipazione non possono mai più entrare in SCP-024 dato che l'ingresso viene loro impedito da una impenetrabile barriera invisibile. E' allora che i concorrenti sono condotti al gioco vero e proprio. Stile, composizione e aspetto del gioco variano sempre da individuo a individuo ma il gioco è sempre incentrato su un lungo percorso ad ostacoli elaborato in modo che i concorrenti vi passino attraverso. Alcuni playthrough accettano un solo vincitore mentre altri incoraggiano la creazione di squadre per vincere la partita. Più spesso che no gli ostacoli visti in questo gioco variano dall'incredibilmente benigno all'estremamente pericoloso e minaccioso per la vita. Quando i partecipanti cercano di negoziare per il percorso l'annunciatore aggiorna continuamente il loro status e partecipa attivamente al gioco, spesso dando consigli, conversando con i concorrenti ed aggiungendo nuove regole. Più il gioco procede, più gli ostacoli diventano significativamente più pericolosi e difficoltosi da superare. E non è sorprendente che l'intero gruppo di partecipanti soccomba alle difficoltà del percorso ad ostacoli. Se tale evento si verifica, il presentatore esprime tristezza per la mancanza di un vincitore e SCP-024 si spegne, resettandosi solo quando un nuovo gruppo di concorrenti vi entra. Qualsiasi tentativo di infrazione delle regole, come aggredire gli altri concorrenti o bypassare deliberatamente gli ostacoli, viene fronteggiato con violenza estrema. L'annunciatore ammonirà il concorrente responsabile, che sarà espulso con forza e rapidamente dai guardiani dello studio. Questi guardiani dello studio si materializzano immediatamente all'interno di SCP-024 quando sono chiamati dal presentatore e scompaiono una volta che non sono più necessari. Il concorrente non viene mai più visto. Quando viene dichiarato un vincitore, lui, lei, riceve un grande premio a caso. I concorrenti che sono sopravvissuti al percorso ma non sono riusciti a vincere sono stati immediatamente dichiarati perdenti dal presentatore. Le luci si spengono e il vincitore appare immediatamente fuori da SCP-024 con il suo premio, mentre i perdenti scompaiono completamente. Tuttavia, l'aspetto più misterioso di SCP-024 è che dopo ogni partita, in una cassetta della posta fuori dall'ingresso principale di SCP-024, appare una videocassetta VHS o un DVD. Questa registrazione è una sessione completa dell'intera partita giocata in precedenza, anche se i vincitori hanno dichiarato di non aver mai visto alcuna videocamera o dispositivo di registrazione all'interno di SCP-024. Inoltre, più stranamente, si può notare la presenza di un pubblico sullo sfondo che fa il tifo per i concorrenti. Anche in questo caso, i vincitori dichiarano di non aver mai visto il pubblico dal vivo nello studio, mentre erano all'interno di SCP-024. Addendum 1. Fino ad ora, l'elenco dei premi assegnati ai vincitori include, ma non si limita a premi in denaro, elettronica, buoni di consumo vario, auto, oggetti di collezione, vacanze pienamente pagate in vari paesi... dati cancellati! Un attento esame di questi premi ha confermato che sono completamente genuini e non sono in possesso di alcuna abilità o caratteristica insolita di alcun tipo. Non sembra esserci nessun modello preciso per sapere di che premio si tratterà. Addendum 2. Nel tentativo di intracciare il luogo in cui i perdenti fossero portati, sono stati montati ai localizzatori GPS sui soggetti che vanno dal D-124 al D-135, quando il gruppo D-45 è stato inviato dentro il SCP-024. Quando i perdenti sono stati portati via, tutti i segnali provenienti dai segnalatori sono andati persi. È attualmente ignoto se sia successo perché i segnalatori sono stati distrutti o perché i perdenti sono stati portati in un'area che non può essere localizzata tramite il GPS. Addendum 3. I presentatori che abitano nel SCP-024 sembrano essere senzienti e consapevoli degli eventi che si svolgono di fuori dal campo. Durante la prova del gruppo D-523, formato soltanto dal dottor... Il presentatore ha invece intrapreso una conversazione con il dottor... L'analisi delle conversazioni ha dimostrato che la maggior parte degli argomenti erano incentrati sulla cultura pop e sulle informazioni distribuite tramite televisione, il che implica che SCP-024 sia in qualche modo in grado di accedere ed interpretare i segnali televisivi. Interrompere tutte le linee elettriche e di segnale, così come rimuovere qualsiasi potenziale apparecchiatura di decisioni wireless in SCP-024, sembra non provocargli alcun effetto. Quando è divenuto chiaro che nessun altro concorrente avrebbe partecipato, il presentatore ha giuntamente chiesto al dottor... di lasciare SCP-024 ed ha consigliato di tornare con più concorrenti. Addendum 4. I guardiani dello studio che il presentatore utilizza per far rispettare le regole variano in ogni partita, così come il percorso. Quando presenti, i guardiani indossano sempre qualcosa che richiami in qualche modo il tema del percorso d'ostacoli. Gli unici attributi comuni condivisi da tutti i guardiani sono l'aspetto umanoide, l'abilità di apparire e scomparire improvvisamente. Una forza sovrumana e tutti si coprono con maschere o copricabi. Ad ogni modo, i vincitori sostengono che i guardiani non abbiano un corpo apparente o una forma all'interno di SCP-024, ma che invece appaiono come grandi figure d'ombra che avvolgono l'uomo.